E ora possiamo andare da Nanako e andiamo a salvarla questo giro e come al solito tutto fatto in una giornata sola Speriamo che la pistola che abbia appena dato a Naoto però non comprometta la sua precisione in modo così esagerato Eccola Nanako-Chan è qui dietro Apri la porta? Beh si siamo curati direi che siamo a posto Ah che bel posto C'ha proprio la faccia da stronzo Lascia andare Nanako E' proprio stupido Veramente li ho salvati io Hai una pistola sparagli in fronte Nanako in pericolo Scegli con cura le tue parole Perché lo stai facendo Nanako in pericolo Scegli con cura le tue parole Che cos'è il canale di mezzanotte Ok Non penso ci sarà di nessun aiuto Lasciala andare Ne dubito Esatto Beh in parte è vero però Esatto Ma la fine si te salvi Ma la fine si te salvi Sì E appunto Il problema è che lui non sa che incontravano le loro stesse ombre e poi rischiavano di morire Tu e chi? L'importante è che non le fai del male, stronzo E appunto Oh, si sta trasformando lui addirittura È diventato la sua stessa ombra Mi stai dicendo che lui ha accettato il suo vero io e quella la sua persona? È il messia, certo Sei messia Piccaro tu, certo Che stronzo, lasciala stare Pezzo di merda Eh, esatto, scusa Oh, è meno male Piccolina Sono veramente curioso di vedere come va avanti tutto questo Che succede? A parte che non è la stessa zona Mi sembra Sembra un po' diversa Le sta assorbendo? Ho una pistola È un mostro fatto di più ombre? È un ingranaggio intero? Allora Allora Mi piaceva l'idea vista da lontano Vista da vicino È proprio brutta 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 Proprio brutto sei Eh sì Pissa a tutti Vai, vai tranquillo Kunino Sagari Allora Iniziamo ovviamente debilitandolo Non ho idea Di cosa possa essere debole Un coso del genere Quindi punterò ovviamente A attaccare il più possibile 329 Non è neanche terribile Abbiamo tolto un bel pezzettino Proviamo anche l'elettricità giusto per sicurezza 194 Ah, Yukiko Sì, sì, sì Tutti malus Adesso ti sfondo un'altra volta Vai tranquillo Brava Brava Naoto Detto ciò Megidola Direi di provare anche con gli attacchi fisici Ma giusto per Ah, giusto Stavo dicendo che è successo Attaccati da soli Direi di attaccare anche con gli attacchi fisici Giusto per vedere Ma non penso che abbia resistenza agli attacchi fisici Ci provo Ok Non ha resistenza Dovevi riprovare con Col ghiaccio, fratello Carica Di nuovo Concentrazione Facciamo una cosa Visto che Yukiko Se la può permettere Aumenta l'attacco di tutto il gruppo Dai Ecco qua Ecco qua Kanji Tu Caricati Così al prossimo attacco Un bel po' di danni lo facciamo Mi spiace Nessuno è debole al fulmine Provale pure tutte Prova pure tutti i poteri che hai Già prevedo La figura che farai Se solo alla bici Ti manca pedigree Tu sei di serie B Madonna Già a metà vita Pensavo stesse per evocare Invece è stata Brava Rize Brava Rize Difesa degli alleati aumentata Vai di nuovo Di Megidola Ecco qua Mamma mia Ti sfondo Ti sfondo a caragnate Stronzo E tu Cosa possiamo fare Primordiale Oh Sì primordiale Perché è grave Sfondalo Mille sece Mamma mia Che stronzo Che stronzo Ma mi hai rubato I compagni Vittima della manipolazione Rifletto Blocco Blocco Mi spiace Finchè abbiamo Yoshitsune In teoria Siamo ancora Al sicuro Ecco qua Cambiamo Contro un bettiere Che anche lui Ci lascia Al sicuro Carica Mi spiace Blocco anche quello Anzi Rifletto addirittura Blocco Mi spiace Mi spiace Non puoi fare Proprio nulla Non puoi fare Proprio nulla Bruto Coglione Debilitiamolo Ovvio Bel tentativo Peccato che ero preparato Difesa ristabilita Megidolan Senza concentrarci Dai Sia mai che me lo ruba Di nuovo 180 Un po' poco Agidain E non ho neanche dovuto Attaccare i miei compagni Pensa un po' Carica Anche se non penso Che ne avremo L'occasione Di usarla Giustizia Infallibile Attacco divino Bello Wow Bel colpo Frate Bel colpo Davvero Muori per favore Addio Eri contro Eri contro la persona Sbagliata Bello C'è un pugno in faccia Prove Trove Poverina Qualcuno Esatto Prendetelo È esatto Beato angelico Beato angelico Ebbè Ovviamente È una bambina Sono comunque Molto soddisfatto Di aver completato Tutto il primo giorno Ovviamente Ospedale municipale Di Naba Fuori dalla stanza Di Nanako Ebbè Nanako non può ricevere visite Ci vorrà un bel po' di giorni Probabilmente Tutto il tempo Che avevamo a disposizione Prima di poterla vedere Ovviamente Tranquillo Si riprenderà Su quello Non ho dubbi Eh esatto Non è colpa tua Vai tranquilla In che senso E state tranquilli Non è colpa di nessuno Dai Non dovete Biasimarvi Non è colpa di nessuno Inutile piangersi addosso Non è colpa di nessuno Di voi Sono io Quello più vicino A lei E dovrei essere io Quello a sentirsi Più in colpa Eh esatto Ovviamente E gli tiro uno schiafo E gli tiro uno schiafo Almeno quello Grazie Grazie La vera La vera forza Quella frase Kanji È davvero forte Assume A parer mio Un'importanza Molto più grande Ovviamente no Dojima Eh ovviamente Eh ovviamente Almeno un mese Secondo me Essendo il dungeon Più difficile Nel momento Ci vorrà molto tempo Aspetta Aspetta Fammi solo leggere Una cosa L'ultima Cosa Ci serve E ora Che urliate Anche voi Eh almeno Quello Eh ovviamente Ma lei piace Il Junes Aumentiamo il rango Con Teddy Ovviamente Certo che sia Bifiducia È lei Bravo Teddy Senti l'affetto Di Teddy Prova Nanako E la grande Fiducia Che ripone In te Ovviamente Livello Nove Dai Probabilmente Dopo che Nanako Uscirà Arriveremo Al livello Dieci Si è rafforzata Mortale Al posto Tuo E pure Un bel sorrisino Ecco Ovviamente Ma ci sono io Non sei solo Teddy Eh Nanako 404 La stanza Errore È fatto il possibile Per fare altro Che crede Che Nanako Aspettare Che si riprenda Eh beh Ospedale Municipale Di Naba Nella stanza Di Dojima Beh Volevo vedere Come stava E digli Che l'abbiamo Salvata Riferisce A Dojima Che Nanako Sta bene Arigato Dojima Sospira Profondamente Probabilmente Usciranno Entrambi Nello stesso Giorno Dall'ospedale Va bene Grazie a Daci Non preoccuparti D'accordo Grazie a Daci Non penso proprio Che potremmo fare nulla Stasera Daci sembra Sinceramente Preoccupato per te Ah In automatico Davvero Ah Strano Grazie a Daci L'affinità sociale Livello 7 Giullare migliorato Non mi aspettavo Che a Daci Andasse avanti Di storia Piuttosto tardi Ha lasciato Dojima Con la Daci Si è andato via Vuoi salvare I tuoi progressi? Ovviamente Grazie a Daci A Daci A Daci Grazie a tutti.